questo anno come sempre qui aspettando questo evento culturale abbiamo sviluppato un tema molto interessante adesso appunto di questa situazione che è il bosco il bosco è una figura metaforica molto importante nella letteratura e anche nella illustrazione poi abbiamo due artisti come ospite che è andrea e olga d'ugina che è quello che noi vediamo qui dietro con la stanza di una selezione delle sue opere più importante così come i libri contesti classici abbiamo il panorama con altri artisti di tutto il mondo che hanno un filo conduttore su un concetto che parla di un modo di vedere il mondo che sono paesaggi inaspettati e questo anno abbiamo invitato a una quantità di artisti che per esempio abbiamo artisti del canada di lituania di germania ovviamente abbiamo di italia di cile per esempio artisti russi con una diversità di tecniche e soprattutto di come vedono il mondo per fare una si può dire così una geografia nel panorama dell'illustrazione contemporanea qui siamo nella stanza di pedagogia immaginazione che è una sezione curata della professoressa marni campagnaro dove l'interesse più importante di queste stanze è una selezione dei libri per farci vedere il libro illustrato come un strumento pedagogico contemporaneo che ha un approccio molto importante con i bambini lettori e soprattutto per attivare una forma di immaginare e di leggere il libro sempre questo angolo del mondo che sarmede prova a reattivare o a conservare questa natura poetica questa natura della bellezza con un valore come una cosa fondamentale dell'essere umano quindi che penso che in questo tempo è importante continuare a enfatizzare che noi abbiamo una parte poetica e abbiamo una parte che amamo sulla bellezza e che credo che continua a costruirci come essere umani la mostra si potrà potrà visitare dal giorno 8 febbraio e siamo estremamente felici di questa possibilità la mostra doveva essere diciamo battezzata il 15 novembre ma come ben sapete il covid ci ha interrotto proprio perché era impossibile poter attuare insomma un'apertura adesso siamo felici e speriamo di aprire fino al 2 aprile abbiamo anche l'intenzione appunto di procrastinare la mostra di un altro mese proprio perché la le persone possono fruire di queste bellissime immagini la mostra si potrà visitare su prenotazione è consigliabile la prenotazione abbiamo la possibilità di avere al massimo 40 persone 20 su un piano 20 sull'altro piano e quindi c'è la possibilità effettiva che ci possa essere un buon flusso peccato che nel fine settimana non è possibile perché ci sarebbe stata un'affluenza maggiore però noi abbiamo considerato anche di poter aprire con degli orari il venerdì sera fino alle 8 di sera quindi anche per chi lavora c'è una possibilità gli orari normalmente sono questi dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18 e il venerdì fino alle 20 ci siamo attivati con delle visite online ma non solo per la mostra ma anche per la scuola d'illustrazione quindi il nostro progetto per il futuro sarà di creare una vera propria piattaforma digitale anche in lingua spagnola per far conoscere la nostra mostra successivamente possiamo dire che il nostro auspicio come diceva Dostoievski è che la bellezza salverà il mondo però non bisogna tenerla sotto chiave